Un po' di suggerimenti. Nello specifico sono quello classico di non lasciare mai le chiavi nella serratura esterna dell'abitazione e quindi di raccomandarsi di chiuderle le porte dall'interno, soprattutto di notte, eccetera. Di non aprire le porte agli sconosciuti perché ogni tanto capita che qualcuno si presenta come addetto del gas o di altri, eccetera, in realtà mettono solo una tuta sopra e poi quando sono dentro tentano di truffare, di rubare soldi o quello che capita. In questo periodo estivo la cosa molto importante che purtroppo alcuni fanno è quello di non lasciare mai le chiavi nella macchina perché chi rompe un vetro prende le chiavi poi o dalla targa o dai documenti che qualcuno lascia anche in macchina perché dice al mare ci vado così in costume senza tanta roba dietro e poi mentre lui è sotto l'ombrellone i ladri che gli ha rubato le chiavi vanno a casa dove magari non trova nessuno e quindi vanno a rubare. Capita anche questo. Ovviamente l'altra cosa importante è poter mettere nelle varie tapparelle, eccetera, dei sistemi di serratura che possano chiudere dall'interno che molti anche oggi non hanno e se possibile, anche se questo c'è un costo, di montare dei sistemi di allarme perché chiaramente già il ladro che vede fuori l'allarme forse ci pensa una volta in più prima di entrare e poi chiaramente questo può essere collegato alle forze dell'ordine o quantomeno una sirena può dare un po' di fastidio ai ladri e quindi avvisare che c'è qualche cosa. Chiaramente poi in caso di eventuali furti o problemi chiamare le varie forze dell'ordine, i vari numeri 112, 113 eccetera eccetera o relativamente ai vigili del fuoco se c'è quello che può essere incendio o quel che sia insomma. Comincerete a distribuirli già dai prossimi servizi? Sì, diciamo che dai prossimi giorni, adesso ci organizzeremo un attimo, cominceremo a distribuire questi volantini ai vari colleghi che poi andranno nel territorio a fare i servizi. La conferenza stampa di questa mattina è stata anche l'occasione per fare un bilancio delle attività svolte dai volontari nel territorio provinciale. Nel 2015 sono stati effettuati 310 servizi e sono state elevate multe per l'abbandono di rifiuti, per il transito con veicoli su parchi o prati, per la mancanza di iscrizione del cane alla nagrafe canina e per non aver rispettato le norme sull'attività venatoria o la raccolta di funghi. Hanno collaborato inoltre con le polizie locali in occasione di manifestazioni o calamità naturali e con il Corpo Forestale dello Stato per la difesa degli incendi boschivi. Quanti siete ad operare nel territorio? Esattamente siamo in 33. Ovviamente c'è il collega che fa i servizi, che usa, noi diamo la disponibilità mensile, io vado il mattino, io vado di notte, io vado di giorno, lui fa le copie, di notte ovviamente andiamo in più perché c'è pericolo e poi i programmi dove dobbiamo andare sul territorio da dove ci vendono le richieste. E voi prendete soltanto un rimborso per il carburante, tutta opera di volontariato? Un rimborso per il carburante a volte no. Insomma una grande passione oltre che un lavoro che sicuramente aiuta i cittadini. A 15 chilometri da Pesaro, tutte le volte che vengo a Pesaro non è considerato servizio e vengo perché c'è un servizio amministrativo, c'è un servizio di organizzazione e la benzina è là. Qual è il vostro compito? Innanzitutto quello di prevenire. Sì, noi andiamo dove ci viene le richieste, andiamo a vedere, a volte avete sentito prima che ho detto che siamo andati a prendere il sindaco in chiesa perché noi andiamo sul territorio, guardiamo cosa avviene, cosa succede, se tutto è a posto, niente, se c'è qualcuno che è andiamo là e gli diciamo questo non lo puoi fare, lo devi fare così e così e così, diamo questi consigli, poi perché facciamo prevenzione un po' per tutti, per esempio a Ripacavagna c'erano tutti degli extracomunitari che andavano a pescare senza licenza, senza niente, non potete farlo, smettetela se non, se vi vediamo ancora successivamente dovremo passare a farvi una segnalazione. E vediamo che da 50 sono ridotte a 25, poi a 10, poi a 2, ecco il nostro scopo è quello lì, oppure chi va a sporcare o chi va a tagliare gli alberi che non si possono tagliare, noi gli diciamo cosa dice la legge perché guardi che c'è molta ignoranza in materia, in materia bisogna andare là e gli guarda che questo è protetto, questo non si può fare, e quell'altro, allora sì, ma vediamo che c'è la reazione buona, non cattiva. Le guardie ecologiche che sono disponibili a stipulare convenzioni con i vari comuni, fra cui quello di Fano, operano in base ad un protocollo di intesa con la provincia e quindi le attività sono svolte sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e proprio dal comandante Daniele Gattoni e dal direttore generale della provincia, Domenicucci, arrivano i ringraziamenti per il lavoro svolto dai volontari. Sono una risorsa importante, direi quasi fondamentale, per il nostro ente ma anche per tutto il territorio, perché noi come Polizia Provinciale siamo con un organico ridotto, siamo rimasti con 20 persone che fanno difficoltà a controllare un territorio vasto come il nostro, è così difficile dove abbiamo la pianura, abbiamo la collina, la montagna, i boschi e quant'altro. E questi volontari sono un po' sì, il nostro occhio sul territorio che ci segnala situazioni di rischio, di difficoltà, quindi i comportamenti scorretti da parte dei cittadini che ci permettono poi di intervenire e di cercare di risolvere i problemi che ci vengono segnalati.